Questa sera al torneo di Città di Bolzano presenti anche i ragazzi della curva dell'Hockey Club Bolzano. Siamo qui con Stefano perché voi avete delle richieste, anzi il vostro più che altro è un appello. È un appello, sì, alla cittadinanza e alla provincia per far sì che il Bolzano non venga salvato, in poche parole. Esatto, spieghiamo a chi non conosce bene la vicenda che sta vivendo adesso l'Hockey Club Bolzano cosa sta accadendo. Niente, che non c'ha soldi per andare avanti, in poche parole. E sta chiudendo, non c'è squadra, non c'è società, non c'è niente, come adesso non si sa niente. E voi siete qui per raccogliere delle firme, giusto? Cercheremo di sensibilizzare l'opinione pubblica facendo delle firme e portandole magari in provincia dicendo che non è che siamo solo dei pochi ragazzi o che i ragazzi della curva. C'è proprio tutta una città che vuole bene a questa squadra e che ci tiene a questa squadra. che è un punto di riferimento per tanta gente. Siete positivi in questo senso o pessimisti? Noi cercheremo di obiettare il nostro, dopo chi vi va vedrà, come si suol dire. Noi faremo sempre il massimo comunque. Allora speriamo di rivederci alle partite dell'Hockey Club Bolzano? Ma certo, in curva. Grazie mille, buona serata. Grazie mille, buona serata.